Clic! Ben ritrovati i miei cari eventori dell'Uisona Bar Calcio. Eccoci finalmente qua a fare il commento post partita con anche le integrazioni delle parole di Sini Semi Ailevic subito dopo appunto alla partita giocata ieri. Terminata purtroppo 1-0 in favore dei giallorossi. Andiamo adesso quindi a fare le considerazioni a freddo, anzi a freddissimo. Come avete visto ci ho messo più del solito in quanto passati in zona arancione il dottor Luisona è super richiesto laddove, ad ogni dove. Quindi cercate di capire il dottor Luisona che deve essere clonato. Hashtag cloniamo il dottor Luisona tutti in coro. Qui sotto nei commenti hashtag cloniamo il dottor Luisona. Prima di iniziare quindi di fare le considerazioni che però vi assicuro sarà un video ricco veramente di contenuti e vi lancio veramente delle chiusettine non da poco. Quindi state bene con le orecchie belle dritte, scolatevi mezza boccia di bourbon whiskey per rimanere belli svegli. Prima di iniziare il viramento come sempre, clicca il tasto rosso, iscriviti a questa istituzione qui a Bologna, per il Bologna e sul Balogna, qual è il Luisona a barcaccio. Condividilo con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu e lascia sempre un mi piacino ai video del Luisona a barcaccio. Allora, iniziamo subito citando Mijailovic e la sua rabbia, anzi il tra virgolettato visto che sono sue parole, la sua incazzatura riguardo a ciò che ne è emerso dalla partita di ieri, cioè che siamo sempre lì a parlare delle solite cose. Non si può, a detta di Mijailovic, cito quindi proprio le sue parole, dopo quel primo tempo con quello che abbiamo creato non andare avanti. Anche la Roma, dice Mijailovic, non sa come si è ritrovati in vantaggio. Hanno superato due volte la metà campo, ma nonostante tutto, appunto, noi non abbiamo fatto gol e loro sì. Dominiamo, ma mi dispiace perché ai ragazzi non posso dire niente, ok? E dice, creiamo e purtroppo non facciamo gol, con le grandi squadre basta una cagata per prenderlo, ci manca qualcosa, se non la butti dentro non vinci le partite. Non è colpa mia né dei giocatori, sappiamo quello che ci manca. Queste le parole che non sono neanche troppo criptiche perché se non è colpa sua, non è colpa dei giocatori, mi verrebbe da chiedere, sarà mica colpa mia? Di chi è la colpa? E quello che poi vado dicendo da sempre, che qui a Bologna gira e rigira la fava. Se vai anche a chiedere al tifoso medio bolognese, ma il tifoso medio bolognese è contento di Mijailovic? Ti dice, non so se c'è il dottor Luisona, non t'accorgi, ma come giochiamo? Bene, porca di quella vacca, c'hai due fette di prosciutto sugli occhi, sinisamiailovic a vita, ok? E bigon! Ma che cazzo dici dottor Luisona che ci ha portato Scout, Svamberg, Tomiasu, Dominguez? Che cazzo dici? Sciacquati la bocca con il sciapone! Sciaputo! Volevi forse Guaraldi, i porceda, al che uno si deve un attimo anche fermare e dire oi boh, non sarò mica colpa mia allora? Allora, forse sbaglio io, però poi, purtroppo c'è quello che si chiamano dati oggettivi, che molte volte viene scambiato per soggettività e mi fa passare per la figura barbuta, brutta, col cappello, occhialuto, che non capisce una sega, però insomma bisogna anche che qualcuno dia una svegliata un po' a tutto l'ambiente e dica, ragazzi, occhio che Mieluic fa anche giocare bene la squadra, ma i puntazzi non ci sono. Saputo avrà fatto anche quello che ha fatto, giocatori di proprietà, Casteldebole, rimessa nuovo, stadio che chissà vedremo, chissà mai, magari. Quindi, uno dice, cavolo, ha fatto quello che doveva fare, però in tutto in soldoni, dopo quasi sette anni, siamo sempre lì a cantare la messa nei bassi fondi, medio-bassi fondi della classifica, dove il salto di qualità non c'è mai. Non si può criticare la dirigenza perché tutto sommato ha fatto un bel lavoro? Da qualche parte, però, perdonatemi, qui sono un po' caustico, qualcuno si deve sbagliare, perché altrimenti non si spiega. Allora io vi chiedo, chi è che sta sbagliando? No, perché qualcuno di quelli che vanno a dire, no quello, no quell'altro, no quell'altro, vi dovete anche rendere conto, mi cari, adesso io dico, mi cari inventori, per citarli tutti, non citarli nessuno, ok? Però è un, diciamo, è un'invocazione che io faccio un attimo di cercare di capire, perché, a mio modo di vedere, quando la colpa sembra non essere di nessuno, è la volta buona che è colpa di tutti. E la colpa di, quando dico tutti, metto in primo me stesso in qualità di tifoso del Bologna, allora io dico, no porca di quella vacca, non può essere così. Mialovic dice che non ha colpa, vaccate, sono delle vaccate, sono delle vaccate, sono delle vaccate, perché se vogliamo, ok, Mialovic ha anche una bella fetta di colpa, a mio modo di vedere. In primis, quale? Benissimo. Sembra che Barba, ad esempio, in origine sia stato lui a promuoverne caldamente l'acquisto, per poi venire a scoprire che, non so se qui ci sia stata un'incomprensione con i dirigenti, non si siano parlati, mi sembra strano. Aver acquistato, appunto, un giocatore che si è rivelato essere tutt'altro quello che ci si aspettava, quindi si continuano ad avere la punta, Sapatini dice, Mialovic non ce l'ha mai chiesta, lo stesso Mialovic, pur in passato, avendo detto più volte, serviva una punta, la punta non è mai arrivata. Poi mi viene a dire, noi giochiamo bene, più di così non possiamo fare, io non sento di avere colpe, a mio modo di vedere invece di colpe ne hai. Uno, perché non ti sei fatto valere, vuol dire che, da un punto di vista proprio di richieste, di leadership, di carisma, mettila come cazzo ti pare, Mialovic, ci vuol dire che manchi in qualche cosa e non riesci a farti capire quanto meno, quindi pecchi in comunicazione, non ti fai capire, non ti fai capire, poi mettici che sei ostinato come un martello pneumatico sui tuoi concetti, guai mai a mettere becco su questi e, indistintamente dall'avversario che andiamo a incontrare, giochiamo con un monomodulo, ok, sempre con la stessa filosofia, anche a mio modo di vedere c'è già qualcosa che cozza, c'è qualcosa che non va a mio modo di vedere, perché se vuoi ottenere poi qualcosa di diverso da quello che invece non hai ottenuto in passato, devi anche cambiare, te stesso Mialovic ce l'hai detto, bisogna sempre mettersi in discussioni, tu stesso dici giochiamo sempre bene, ma non raccimoliamo mai quanto dobbiamo, forse allora bisogna mettere in conto, ma la butto lì, eh, non è che magari giocare bene non vuol dire essere efficaci e quindi fare dei punti e quindi andare sopra in classifica, non è che dobbiamo noi magari giocare con un pizzico di più umiltà, ma metterci più sostanza sotto altri punti di vista tecnico-tattici, non mi puoi venire a dire che non hai nessuna colpa, anche perché, perdonami Mialovic, io, anche vedendo la partita di ieri, va bene che tra primo e secondo tempo, sicuramente a un certo punto della partita, la Roma ha messo dentro le prime scelte, mentre per abbondanti 50 minuti, 55 doveva andare a rivedere, non mi ricordo, ma non ha neanche importanza, la Roma ha giocato con la squadra B, e di questi siamo tutti d'accordo, però siamo anche tutti d'accordo che il Bologna era entrato in campo, che praticamente non ne aveva più, nel senso che abbiamo giocato un primo tempo buono, da un punto di vista di possesso palla, di tenuta del pallino del gioco, quindi di sottrazione della sfera da parte degli avversari, quindi se sottrae la sfera agli avversari, gioco forza, gli avversari sono innocui, siamo d'accordo, e quindi questo è un bene, però poi in fase propositiva, offensiva, siamo stati poca roba, o comunque non siamo stati ficcanti, e non è possibile pensare che ogni volta sia la sfortuna, sono delle manchevolezze, e quello che volevo dire è, primo o secondo tempo, cambiato totalmente, che cosa hai detto durante la ripresa? Perché io ho il sospetto che, indistintamente da chi si vinca, vedi ad esempio contro la Sampdoria, o chi si perda, vedi contro il Crotone, vedi contro la Roma ieri, tu hai un modo unico di interfacciarti con i giocatori, che è la maniera insomma che tu pensi anche giustamente sia quella buona, quella valida, per cercare di tirare fuori, ok, il sacro fuoco da loro, però, forse una volta ti riesci, cinque volte ti riesci, dici volte ti riesci, arriva la ventesima, se qui da due anni e mezzo ormai e passa, può darsi anche che ormai i giocatori ti abbiano un attimo decodificato, abbiano capito che tu sei, hai solamente quel modo di motivarli, e arriva a un certo punto che sei sempre lo stesso modo, e non vai a pizzicare altre corde, perdi anche di credibilità, quando, laddove i risultati non li porti, pertanto ogni volta che, te dici delle cose che, a mio modo di vedere, più o meno sono sempre gli stessi concetti, e i risultati in campo poi dicono diversamente, gioco forza, agli occhi dei giocatori, sia che siano cose giuste o cose meno giuste, perdi di credibilità, perché i risultati non arrivano, e io vedo una squadra da questo punto di vista, proprio sfiduciata, ieri siamo riscesi in campo sfiduciati, quindi dire che tu non hai colpe, a mio modo di vedere è una sottrazione di colpa, che già di per sé è una colpa stessa, perché anche, e diciamo una cosa, ecco, una cosa che non abbiamo detto, e che mi ha fatto veramente incazzare ieri, chi si è accorto che Mijalovic, 20-30 secondi prima del fischio finale dell'abitro, è rientrato negli spoiatoi, abbandonando, abbandonando la nave, cioè il condottiero, il comandante della nave Bologna, che abbandona i suoi ragazzi, ok, che stanno affondando, e li ha abbandonati, a mio modo di vedere, anche se per pochi secondi, è stata un'immagine, lasciatemi dire, vergognosa, un'immagine vergognosa, che io, fosse un dirigente del Bologna, chiederai numi a Mijalovic stesso, e chiederai spiegazioni, ok, andando anche dai ragazzi a capire, perché c'è qualcosa che non va, poi, i ragazzi non hanno colpa, dipende, non hanno colpa, perché tu ritieni quindi, che abbiano fatto tutto quello che c'era da fare, e quindi hanno esattamente fatto quello che tu hai chiesto, ne sei sicuro, perché se fosse così, sarebbe anche, un pochino, un'ulteriore colpa che ti si accollerebbe, che forse invece, devi un attimo vedere, ci sta a dire magari che i microfoni, che i ragazzi non ne hanno colpa, però insomma, pensarlo seriamente, potrebbe essere, un problema, se poi mi dici che, comparto giocatori, comparto allenatori, non hanno colpa, allora, mi si dica di chi ha la colpa, è forse una colpa dirigenziale, che non fa chiarezza, che non va a prendere, quello che aveva promesso, che andasse preso, arriva poi a un certo momento, che bisogna poi anche dire le cose, perché altrimenti, si passa per, si passa per dei somari, e, a mio modo di vedere, Mialovic, sta facendo anche di tutto, per cercare di non passare per il somaro, pertanto, che, si dice una cosa del genere, visto e considerato che, tanto che Bologna ha potere di dire la ogni, la qualsivoglia, che ci dica esattamente, che cosa, che cosa, ha in serbo per noi, perché anche qui, sentire e parlare, perché poi gli fanno l'intervista, il futuro, e dice, ora pensiamo alle prossime due partite, che abbiamo Spezia e Torino, perché, altrimenti, non ho tempo di pensare adesso, a futuro, altro che non la prossima settimana, perché in questo momento, sono troppo incazzato, e se può rimandare su quello che, appunto, potrà essere eventualmente, o non sarà il prossimo anno, se o meno, l'allenatore, lui del Bologna, non si capisce se, ed è una cosa, mi muovo di vedere, che ci rallenta, e non deve, e non deve essere. Voglio citare, a conclusione di questo video, due frasi che mi sono molto piaciute, che sposano totalmente, quello che è, un po' la mia filosofia di pensiero. La prima l'ha detta ieri, Beppe Marotta, alla, diciamo, prima del fischio iniziale, della partita dell'Inter, Conti e il Cagliari, dove, rispondendo, alle critiche rivolte, da più giornalisti, da più organi di stampa, ma anche da esperti del calcio, al gioco di Conte, risponde dicendo, citando una frase, di Enriberto Herrera, che recitava, il possesso calcistico, è quando parla la classifica in termini di punti, e non quello territoriale in campo. Dice, quindi, che il nostro centro estetico, dice, Marotta è la pinettina, quindi noi, facendo il trasferimento, dovremmo intendere, il nostro centro estetico, è Casteldebole, dove c'è tutto, e c'è uno staff preparatissimo, tra parentesi, noi ce li abbiamo, chiuso a parentesi, condivido, dice l'opinione, sua, non è guardando la percentuale, sua inteso di Enriberto Herrera, non è guardando la percentuale, del possesso palla, che si vincono i campionati, lo ripeto, non è guardando la percentuale, del possesso palla, che si vincono i campionati, il possesso calcistico, è quando parla la classifica, in termini di punti, e non quello territoriale, in campo, secondo me, sono parole, che andrebbero spedite, a tutto il comparto, dirigenziale del Bologna, e farle leggere a voce alta, come un mantra, a Sinisemianovic, poi cito, una frase, che mi ha scritto nei commenti, il mio caro avventore, Ettore Bertelli, di parole, proferite, da Vincenzo Italiano, è natore delle Spezia, all'indomani della vittoria, contro il Crotone, che dice, che si deve vincere, non solo se giochi bene, ma devi vincere, per creare motivazioni, per dare un senso, alla fatica, di ogni giorno, si deve vincere, anche offrendo prestazioni, non all'altezza, e con cinismo, dall'altro canto, non possiamo permetterci di più, siamo una provinciale, con questi mezzi, quindi questa, è un discorso, questo è un ragionamento, ok, non fare sempre, come fa, Mijalovic, che, sembra sempre, che sia tutto frutto del caso, che lui non si dà spiegazioni, non è colpa sua, non è colpa dei giocatori, sembra che non sia mai colpa di nessuno, poi, siamo sempre a ripeterci, le stesse cose, Bologna, ha detta di molti, io sinceramente, io devo essere onesto, ho i miei dubbi, perché anche vedendo la partita di ieri, considerando che giocavamo contro la Roma B, e nel secondo tempo, siamo letteralmente spariti, io ho i miei dubbi, che il Bologna giochi bene, secondo me, giochiamo, adesso, sarà, sarà anche, un paradosso, magari esagero anche, ma è per cercare di fare capire, secondo me, giochiamo anche in maniera, non, vabbè, non è che lo dico io, è palese, non efficiente, giochiamo in maniera, poco intelligente, cioè, secondo me, cerchiamo di fare delle cose, senza avere gli uomini per farlo, ma, perdonatemi, secondo me, è poco intelligente, poi, farò come il Mielovic, non sto dando il poco intelligente, a Mielovic, ai giocatori, non lo so neanche io, a chi lo sto dando a questo punto, però, lasciatemi dire, c'è qualcosa che stona, adesso, cercheremo, con anche altri video, per non fare, se no, un podcast con questo, di riprendere l'argomento, ma, secondo me, c'è incomincia a esserci qualcosa, che tocca qui a Bologna, ed è un qualcosa che va investigato, mi cari eventori, con questo, per il momento, direi che possa essere tutto, sono molto, veramente, molto infastidito, da determinate cose, anche l'uscita, anzitempo, dal campo di Mielovic, è qualcosa che, veramente, mi manda sui gangeri, attivate Camparaccio Pastorale, prima, nei sempre aggiornati, qui, su Luggerna Bar Calcio, di nuovi video, noi ci sentiamo, alle prossime, chiacchia da barra!